Parcheggia l'auto allo scambiatore, paga il biglietto per la sosta, prende il tram e va in centro a Padova. A ritorno trova una multa da 28 euro e 70 centesimi perché non aveva chiuso bene la macchina, si era dimenticata di girare la chiave per bloccare la serratura. La mara scoperta è stata fatta qualche giorno fa da una bassanese residente a Santa Croce. Sulla sanzione era citato un punto del codice della strada che richiama i proprietari a mettere in atto le opportune cautele per evitare il furto dell'automobile. Secondo la polizia locale, contattata dalla donna, sarebbe una sorta di induzione a commettere un reato. Insomma, una tipica storia all'italiana dove il buonsenso viene schiacciato dalla burocratica applicazione delle norme.